Oltre 13.000 incidenti l'anno, in media 36 al giorno, a tanto ammontano i tragici scontri in Sicilia. Nel 2011 gli incidenti stradali con lesioni a persone rilevati nell'isola sono stati 13.283 e hanno causato il decesso di 271 persone e il ferimento di altre 20.129. Gli incidenti avvenuti nel territorio regionale nell'anno considerato rappresentano il 6,5% del totale nazionale, i morti il 7% e i feriti il 6,9%. Nel solo mese di novembre la città di Palermo ha fatto registrare 12 vittime della strada, fra le quali tre giovanissime o di un'intera famiglia distrutta. Ma quello dei grevi incidenti stradali è un problema di natura mondiale che oltre alle evidenti gravi implicazioni di natura personale comporta anche grandissimi costi sociali. Gli incidenti stradali in Europa, infatti, sono responsabili di una perdita di circa il 2% del PIL e hanno un costo sociale che nel 2002 è stato quantificato in più di 34 miliardi di euro. Per affrontare quello che si configura come un vero e proprio allarme sociale, la regione siciliana insieme alla Polizia Stradale, all'Ufficio Scolastico Regionale, alle Polizie Municipali, alle Aspe delle nuove province, mette in campo strategie di educazione e prevenzione. A noi piacerebbe raggiungere questo ambizioso obiettivo che è un rinnovamento culturale per tutte quelle fasce d'età, soprattutto giovanili, le cosiddette coscienze in crescita, affinché loro possano abbracciare scegliendo la cultura della legalità che è anche la cultura del rispetto delle regole del codice della strada. Grazie a queste strategie, nel 2011, la diminuzione del numero dei morti rispetto al 2001 risulta pari al 45,6% rispetto all'obiettivo fissato dall'Unione Europea nel libro bianco del 2001 che prevedeva la riduzione della mortalità del 50% entro il 2020. Dobbiamo lavorare sui ragazzi, dobbiamo lavorare sui giovani perché abbiamo dei dati che ci incoraggiano. Noi abbiamo un trend in discesa perché si sta fendendo un lavoro nelle scuole, nelle strutture sanitarie in sinergia con le forze dell'ordine che ci fa intravedere un po' di luce. Stiamo collaborando con il gruppo interregionale che lavora presso il Ministero della Salute alla definizione del nuovo piano nazionale della prevenzione. Ci sono dei fattori culturali che vanno modificati, i fattori di rischio che si possono rimuovere e ad esempio quello di una corretta educazione sanitaria riguarda la prevenzione dell'abuso di alcol.